Come hai detto tu, purtroppo non è valso a nulla. Avrei preferito che la mia prima gioia in Serie A combaciasse con almeno un punto. Purtroppo non è andato così. Sicuramente per quante occasioni abbiamo creato, probabilmente il risultato non è quello giusto, a mio avviso. Però il verdetto ha detto questo, il campo ha detto questo, ci rimbocchiamo le mani. Le mani che continueremo a lavorare duro. Sì, step by step. Pensiamo prima alla spalla in Coppa Italia, che è importantissimo passare il turno e poi dopo ci dedicheremo all'Atalanta. Sì, giocare da mezz'ala a destra, mezz'ala a sinistra o esterno cambia poco a me. A me quello che preme di più è scendere in campo. Poi il mister fa le sue scelte.